Ciao a tutti, oggi prepareremo le castagnole fritte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, latte, olio di semi diarachidi, zucchero semolato, la scorza di un limone non trattato, farina doppio zero, lievito per dolci, zucchero a velo, vanillina e finto miele d'arancia. Diamo via la ricetta. Mettiamo momentaneamente da parte lo zucchero a velo e il finto miele d'arancia che ci serviranno solo al termine della ricetta per decorare. Iniziamo mettendo all'interno del boccale le uova, il latte, l'olio di semi diarachidi, la vanillina, la scorza del limone grattugiata e lo zucchero semolato. e azione a 1000 bimbi per 40 secondi a velocità a 4. adesso aggiungiamo la farina e il lievito per dolci. e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità a 4. il composto è pronto trasferiamolo in una ciotola. dopo aver trasferito il composto in una ciotola scaldiamo su un fornello in una padella abbondante olio di semi che utilizzeremo per friggere le castagnole. quando l'olio sarà caldo mettiamo all'interno della padella aiutandoci con due cucchiai dei mocchietti di composto di castagnole e fricciamole sino a quando non saranno ben dorate. andiamo a friggere. andiamo a friggere. le castagnole sono cotte andiamo a decorarle con zucchero a velo o finto miele d'arancia. castagnole fritte grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti i nostri spettatori e alla prossima ricetta.